In questo video andrò a parlarvi di una delle CPU secondo me più interessanti della line-up Ryzen 7000, quindi dell'attuale generazione, ovvero il Ryzen 7 7700. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Intendaro Pazzo. Oggi siamo qui a parlare di questo processore che, se avrete visto uno dei miei ultimi video, è appunto la mia CPU principale che utilizzo nel mio PC di tutti i giorni. È un processore che, insomma, ho reputato molto interessante per il fatto che attualmente si può pagare veramente poco su Aliexpress. E sì, io la mia CPU principale l'ho comprata proprio da lì, quindi fregandomi in pieno della garanzia e magari ecco di avere anche la sua scatola originale e quant'altro. Ma per il semplice fatto che, appunto, durante il Black Friday cinese, insomma, dell'11 novembre, sono riuscito a pagare questo processore 8 core 16 thread, la bellezza di 187-190 euro spedito dalla Cina in condizioni praticamente nuove sostanzialmente, solo col fatto che, appunto, non ha il dissipatore stock e la sua scatola originale. E quindi, a questa cifra, ho detto, secondo me, ecco, può essere molto interessante, visto che, di solito, questo è il prezzo a cui troviamo in offertona, ecco, il modello di Ryzen 5, insomma, 7600 o il 7500F. E quindi, davvero, trovarsi una CPU come questa a questo prezzo è davvero qualcosa di molto, molto interessante. Prima, però, di continuare col video, vi invito, come sempre, a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, se, ovviamente, non lo avete già fatto. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi nei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro per quanto riguarda hardware e videogiochi usati. Ovviamente, si tratta di prodotti venduti su Amazon, quindi state tranquilli per la garanzia e l'assistenza. Detto questo, insomma, iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio, visto che passano sempre delle bellissime offerte. Prima di riprendere, vi invito, ovviamente, anche a seguirmi su Instagram e sul mio canale di TikTok, così da non perdervi anche lì nessun video breve che uscirà e, ovviamente, anche da seguire tutte le novità del canale Nintec. Detto questo, direi che possiamo tornare a parlare di questo processore. Uscita inizio 2023, quindi un pochino dopo rispetto al resto della line-up del Ryzen 7000, che vi ricordo essere uscita a settembre-ottobre 2022, questo Ryzen 7 si presenta, diciamo, come l'alternativa un po' più a basso consumo, diciamo, un pochino più ottimizzata del fratello maggiore, insomma, Ryzen 7 7700X. E, appunto, proprio per il fatto di non avere questa X nel nome, fa sì che le frequenze di base e in boost, insomma, siano più basse rispetto al modello più pompato. Si tratta sempre, ecco, di un 8-course DC Thread con architettura, ovviamente, Zen 4 a 5 nanometri, supporta DDR5 e PCI Express 5.0, con 32 MB di cache di livello 3 e, quindi, ecco, l'unica cosa che cambia, come vi ho già detto, sono le frequenze. Di base abbiamo 3,8 GHz e, invece, in boost arriva fino a 5,3 GHz, col fatto, poi, che volendo possiamo andare a overclockarlo, cosa che, ovviamente, andremo a vedere durante il corso di questo video. Quindi ci troviamo con una CPU che ha tutti i lati positivi dell'architettura Zen 4 senza, però, avere gli svantaggi, ecco, dei fratelli maggiori con la X. In particolar modo, ecco, il TDP comunque più elevato e il fatto di arrivare a questi fatidici 95 gradi anche con dissipatori belli potenti. In questo caso, il TDP è di 65 Watt e vi dico, anche, teoricamente, col suo dissipatore stock o anche con dissipatori veramente da poco, riuscite a tenerlo senza problemi e non arrivate, certo, a queste temperature così alte. Poi, ovviamente, se lo volete andare a overclockare, come, appunto, ho fatto io, insomma, dovrete avere, ecco, diciamo, un dissipatore un pochino più pompato. E proprio parlando di dissipatori, insomma, piattaforma di test, e, ovviamente, essendo il mio PC, che magari avete anche già visto in uno scorso video, ho utilizzato come dissipatore l'Endorphi Navi 360, che, effettivamente, è un ottimo dissipatore a liquido, è un dissipatore da 360 mm con tre ventole, appunto, da 120, e anche, insomma, come pompa e, diciamo, come raffreddamento in generale, veramente mi sono trovato, mi sto trovando molto, molto bene. Per quanto riguarda, poi, la scheda madre, è una ASRock X670 Extreme Steel Legend, quindi anche questa è un'ottima scheda madre che regge senza nessunissimo problema, anche in overclock, questa CPU, e, come rub, abbiamo 32 GB di RAM, 2x16 GB della G-Skill, le Trident Z da 6400 MHz e CL32. E, infine, come scheda video, abbiamo la RTX 3090, che abbiamo utilizzato, ecco, per tutti i vari test, e, ovviamente, i giochi li abbiamo testati in Full HD, così da vedere, ecco, fin dove riesce ad arrivare la CPU, perché, ovviamente, testandoli, se no, a risoluzione più alta, come 1440 o 4K, siamo molto spesso, insomma, quasi sempre, ecco, limitati, invece, dalla scheda video. Detto questo, credo di aver detto tutto, e ora direi di concentrarci sui benchmark. Per iniziare con le frequenze che si riescono a raggiungere a stock con un carico su tutti i core, vediamo che la CPU raggiunge i 4,8-4,9 GHz. Con un carico, invece, singolo core, riusciamo a vedere il boost da specifica di 5,35 GHz. Per quanto riguarda, invece, un overclock statico, fisso, che sono andato a fare, ho impostato 5,3 GHz su tutti i core, con un V-core di 1,175 mV. Secondo me è un buono sweet spot, e, effettivamente, sono stato anche abbastanza fortunato, perché non è da tutti sempre raggiungere queste frequenze. Per quanto riguarda i punteggi su Cinebench, vediamo che con l'overclock in multi-core abbiamo un bel boost, mentre in single core siamo un pilino sotto, proprio per questo fatto che a stock riesce a raggiungere i 5,35 GHz e non i 5,3. Per quanto riguarda Cinebench 2024, più o meno la stessa cosa, sempre in multi-core abbiamo un bel boost, senza considerare poi, ecco, il punteggio che faceva il Ryzen 7 3700X, che non è proprio confrontabile con questi nuovi Ryzen 7. Per quanto riguarda il 7-zip benchmark, abbiamo un netto incremento per quanto riguarda l'overclock, 170.000 punti in compressione con 318.000 e 191.000 contro i 131.000, quindi davvero risultati impressionanti per questo Ryzen overclockato. Su Blender Open Data 4.0, qui effettivamente è un carico multi-core, 289 punti contro 269 e con 383 del vecchio Ryzen 7 37X. Blender BMW Demo, anche qui, tempo di rendering 132 secondi per lo stock, 121 per l'overclock e 168 per il Ryzen 7 37X. Passando alla Classroom, insomma, praticamente lo stesso test, ma un po' più pesante, 284 secondi contro i 260 del Ryzen 7 overclockato a 5.3 GHz. Per quanto riguarda Corona 1.3 benchmark, 73 secondi contro i 70 dell'overclock, qui, vi devo dire, fa differenza anche la RAM, che in entrambi i casi comunque era impostata con l'XMP a 6400 MHz. Geekbench 6 per quanto riguarda la CPU, single-core che è in vantaggio per lo stock, per lo stesso motivo che vi ho detto prima, multi-core invece ovviamente l'overclock è in vantaggio di circa un migliaio di punti. Su V-Ray, l'ultimo test di produttività, vediamo 20.000 v-samples contro 21.000 v-samples dell'overclock. Effettivamente anche qui c'è un po' di differenza in vantaggio dell'overclock e del Ryzen 7. Per quanto riguarda i giochi con Control, DirectX 12, Full HD e dettagli di Digital Foundry, vediamo una differenza minima tra lo stock e l'overclock, in favore in realtà appunto dello stock. Si vede che appunto questa frequenza un pelino più alta favorisce ecco i parametri a stock e vediamo un'enorme differenza invece contro il Ryzen 7 3700X. Per quanto riguarda la Wake 2, qui siamo completamente GPU limited perché appunto con tutte e tre le configurazioni arriviamo praticamente a 112 FPS in Full HD e DLSS Quality con settaggi di Digital Foundry. Quindi effettivamente questo è un gioco che fa lavorare tantissimo le schede e lo vediamo proprio qui dove appunto la CPU fa veramente pochissima differenza. E passando ora a Death Stranding, sempre in DirectX 12 e Full HD e settaggi maxati, vediamo che sì, l'overclock è un pelino indietro per quanto riguarda l'average, però per l'1% è in linea, se non un pelo più alto dello stock, mentre ecco il 3700X ovviamente è indietro. Anche in questo caso riusciamo a raggiungere praticamente il 99% della scheda video, quindi anche qui insomma non riusciamo effettivamente a vedere fin dove riesce ad arrivare questo processore. Per quanto riguarda Fortnite capitolo 5 stagione 1 su una modalità rissa squadre che è pesantina, ecco per quanto riguarda la CPU, in Full HD e settaggi medi, vediamo un bel incremento insomma per quanto riguarda l'overclock anche in termini di 1% low e figuriamoci contro il 3700X, veramente c'è un abisso di differenza, quindi anche questa CPU per giochi come questo che mi serve ecco spingere tanti frame va veramente da dio. Per quanto riguarda God of War, Full HD e settaggi alti, anche qua siamo in buona parte limitati dalla scheda video perché arriviamo a 156 fps per lo stock, però con appunto una percentuale di utilizzo della 3090 che è al 100%, quindi non vediamo tutta questa differenza rispetto anche a un 3700X che comunque faceva 126 fps di media. Per quanto riguarda Cyberpunk, gioco effettivamente molto CPU limited, si è impostato con densità della popolazione al massimo, qui con i settaggi di Hard Unboxed e Full HD nativo, vediamo 124 fps con 321 con però, ripeto, un vantaggio in termini di 1% low e una differenza abissale con il 3700X che faceva 68 fps di media con un percento low di 46, quindi anche qui veramente ecco la nuova generazione si fa sentire e come. Per quanto riguarda un titolo nuovo export, The Finals, Full HD di LSS Quality e settaggi medi con anche Ray Tracing a medio, abbiamo 168 fps di media con una differenza insomma di pochi fps per quanto riguarda l'overclock in cui anche qui ecco l'1% low è in vantaggio per la configurazione in overclock e con Ryzen 7 3700X anche qua passa parecchia acqua sotto i ponti, soprattutto in termini di 1% low che praticamente era doppiato. Counter Strike 2, Full HD nativo e preset medio, ripeto il preset medio vi va ad attivare l'FSR che sono andato a disabilitare per effettivamente vedere i risultati in Full HD e a risoluzione nativa, abbiamo una differenza con l'overclock che è di una decina di fps in vantaggio appunto di quest'ultimo, con il 3700X che ovviamente si fa sentire l'età e comunque faceva 201 fps che non erano male, però ecco vediamo che c'è abbastanza differenza. L'ultimo gioco Battlefield 5 da RTX 12 Full HD nativo e settaggi alti, abbiamo 199 fps a stock e anche in overclock qua perché c'è il capo del framerate del gioco che è 200 fps, quindi insomma riusciamo a raggiungerlo facilmente con entrambe le configurazioni. Detto questo direi ora di passare le considerazioni finali di questo video. E rieccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark, io devo essere sincero sono rimasto veramente stupito dalle prestazioni in gaming che ha questo Ryzen 7 7700 per il fatto che abbiamo visto la 3090 in Full HD essere utilizzata al 100% praticamente in quasi tutti i giochi, che non è una cosa da poco secondo me, già questo dovrebbe far parlare da sé, nel senso che ecco la 3090 ha ancora un ottimo potenziale anche rasterizzazione effettivamente e quindi vedere una CPU che sicuramente non è una CPU top di gamma diciamo comunque in fascia medio alta a fine, con consumi che sono comunque molto contenuti, avere questo livello di prestazioni che riesce a farci apprezzare al massimo una scheda come la 3090 ma immagino appunto anche schede video ben più prestanti in Full HD, insomma non è qualcosa di scontato e questa è una cosa che non dovrebbe stupirci troppo per il fatto che questo Ryzen 7 7700 deriva direttamente dal fratello maggiore che vi ho già detto prima insomma 7700X che è stato prima dell'uscita delle versioni con la 3DB cache quindi del 7800X 3D era stata insomma la CPU più potente, in questo caso ci troviamo una versione che è un pochino più castrata lato frequenze però in ogni caso ecco ci troviamo una CPU che in gaming va veramente molto molto forte e ci offre prestazioni da quasi primo della classe, diciamo secondo della classe ecco per quanto riguarda invece i test di produttività anche qui effettivamente questo Ryzen 7 secondo me si difende molto molto bene pur essendo solo un 8 core 16 thread senza la presenza degli e-core presenti invece nelle controparti Intel di attuale generazione e effettivamente questi ultimi possono dare un bel boost magari in test di produttività più che altro in quelli di rendering poi comunque questo Ryzen può avere i suoi vantaggi anche rispetto magari a un i7 13700K posso pensare per esempio alla compressione o la decompressione, veramente questi Ryzen sono una bestia anche qui dovete vedere un po' l'applicazione che utilizzate maggiormente insomma se va a sfruttare questi e-core o meno perché comunque per il resto ecco questo Ryzen 7 rimane un ottimo processore ecco per tanti ambiti di produttività ripeto magari il rendering o comunque alcuni ambiti in cui gli e-core si fanno sentire perché effettivamente la scelta di un processore Intel potrebbe essere quasi obbligata quindi prima di arrivare alle conclusioni e passando per la domanda fatidica vi consiglio questo processore nel 2024? diciamo dipende, sì magari è una risposta un po' che non vi aspettavate però nel senso non fraintendetemi, ovviamente non mi sto rimangiando tutto quello che vi ho detto fino adesso cioè che è un ottimo processore e imprende tutti gli ambiti soprattutto il gaming ma per un fattore che abbiamo solo accennato cioè il prezzo perché questa CPU attualmente può essere trovata intorno ai 300 euro, 310 magari venduto da Amazon o comunque anche da piattaforme terze il fatto qual è? è che a questa cifra vi direi quasi quasi a questo punto potete puntare su il fratello maggiore 7800X 3D oppure persino su Ryzen 9 7900X o 7900 liscio perché entrambe queste CPU le ho viste, le ho trovate insomma da venditori comunque affidabili che vi lascerò linkati anche qua sotto a prezzi come 350-360 euro quindi diciamo però una differenza di prezzo che non è così esorbitante ci possiamo trovare o un Ryzen 9 12 core che effettivamente fanno la differenza soprattutto nelle applicazioni di produttività oppure la CPU più potente in gaming ma se invece questo 7700 lo andiamo ad acquistare su Aliexpress a una cifra simile a quella che ho pagato io che veramente secondo me è qualcosa di allucinante cioè in senso positivo ovviamente non dico che non ha rivali ma quasi perché per 200 euro circa io ripeto l'ho pagato 190 non c'è sicuramente ecco processore migliore attualmente sul mercato per questa cifra perché in gaming abbiamo veramente prestazioni da secondo, terzo della classe e in produttività comunque ecco questi 8 core 16 thread di nuovissima architettura si fanno sentire tra l'altro ecco sono stato anche relativamente fortunato perché ho beccato un sample che si overclocka facilmente regge RAM anche a 6400 MHz e insomma quindi non mi posso lamentare sicuramente quindi per questo ecco vi posso consigliare in caso se volete tentare un po' la sorte potreste considerare ecco l'acquisto di questo processore Aliexpress se invece lo dovete pagare a prezzo pieno quindi 310 in sconto 330 sarebbe il prezzo MSRP attualmente magari vi indirizzerei più su un 7800X 3D o su un Ryzen 9 7900 oppure bisogna anche considerare l'opzione Intel anche lì dipende dal vostro utilizzo insomma con le varie applicazioni e se ci tenete ecco all'upgradabilità futura sappiamo insomma che il socket Intel LGA 1700 comunque sarà fermo ormai e per questo ecco dovete tenere in considerazione un po' di cose però su questa fascia vi ricordo ecco esserci anche l'i5 13700K o se magari trovate in offerta e quant'altro anche l'i7 13700K magari con l'intorno ai 350 siete proprio fortunati che sono anche quelle CPU veramente ottime sia per giocare poi anche per fare tutto il resto della produttività quindi che dire spero che questo video vi sia piaciuto se così mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace qua sotto e con un commento ecco su cosa ne pensate di questo Ryzen 7 anche se avete intenzione pure voi di fare un upgrade a questa nuova generazione se invece siete più indirizzati magari alla prossima o invece appunto a una piattaforma Intel detto questo io non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello sul mio vecchio Ryzen 7 il 3700X che abbiamo già visto ecco in parte confrontato anche in questo video e invece il secondo che vi consiglio è quello sui benchmark della RX 7800XT scheda comunque molto interessante attualmente ecco sulla fascia dei 500€ e arrivati a questo punto è veramente tutto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi